Nel corso di questi ultimi giorni le notizie in relazione a Ubisoft non hanno fatto ben sperare, anzi hanno peggiorato ancora di più una situazione abbastanza critica. Da una parte abbiamo infatti ricevuto informazioni in relazione ai risultati della compagnia, ai risultati finanziari della compagnia, che sono stati, come era facilmente immaginabile, un colabrodo, in parte per colpa di Star Wars Outlaws, in parte per colpa di X-Defiant, e entrambi hanno underperformato rispetto a quello che si sperava, il tutto aggravato dal fatto che nei prossimi mesi non ci sarà un nuovo Assassin's Creed, come era originariamente previsto, a tappare i buchi. Shadows doveva essere un po' il salvatore, lo hanno rimandato e mo' si ritrovano con il nulla in mano e i conti in rosso. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, arriva poi Tom Henderson ad annunciare che, a quanto pare, Assassin's Creed diventerà una serie di grandissima importanza per Ubisoft, che se in passato voleva quasi abbandonare l'idea della cadenza annuale per i suoi capitoli, adesso vuole addirittura aumentare quella cadenza a un capitolo ogni sei mesi, che, allora, se ci pensate, è follia. Un capitolo ogni sei mesi, ma come cazzo ci riesci? Come puoi creare un prodotto di qualità? Poi potremmo anche star lì a parlare di qualità, però anche soltanto un prodotto che funzioni, farlo uscire ogni sei mesi, o hai 37 team che lavorano sul brand o non ce la fai. Però, al contempo, bisogna pensare a due cose. In primis, che sono diversi anni che sappiamo che Ubisoft sta lavorando ad almeno una decina di Assassin's Creed. Effettivamente, in diversi Ubisoft Forward era stato confermato lo sviluppo di una valanga di capitoli a tema, tra spin-off, tra remake, tra giochi multiplayer, tra titoli mobile e capitoli principali. Il tutto, poi, assume ancora più forza nel momento in cui si pensa all'Assassin's Creed Hub, all'Animus Hub, come l'hanno chiamato, ovvero questa specie di piattaforma condivisa che, nei piani della compagnia, dovrebbe permettere di far uscire titoli minori, quasi a cadenza di episodi, quindi prodotti piccolini, spin-off di varia natura, a tema Assassin's Creed. Perciò, bisogna dire che, per quanto attualmente si parli ancora di rumor, i movimenti, i comportamenti, le azioni portate avanti dalla compagnia, beh, effettivamente fanno pensare che questa, magari non sarà ogni sei mesi, però fa pensare che Ubisoft voglia aumentare enormemente i ritmi per cercare di salvare il salvabile, che poi voglio dire, quantità, meglio della qualità, come al solito, torniamo sempre lì, però diciamo che Ubisoft punta ad Assassin's Creed un po' come la gallina dalle uova d'oro, ormai da due generazioni, tre generazioni e così, il rischio è che si vada veramente, in maniera terribilmente pesante, a riempire il mercato con tutta una serie di giochi a tema Assassin's Creed che facciano perdere di unicità al brand, il tutto parlando di un brand che, in realtà, ha già perso unicità, per, appunto, tante belle notizie che fanno ben sperare per il futuro di Ubisoft. A tutto questo, però, bisogna aggiungere una grossa novità, perché la compagnia francese ha pubblicato un nuovo gioco, all'insaputa di tutti, un gioco basato su NFT. Oh, la parolina magica, NFT, soldi, 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 soldi. E viene un po' da chiedersi, ma perché Ubisoft continua a voler puntare su questo contesto? Allora, il gioco si chiama Champions Tactics Grimoria Chronicles, appunto, gioco basato su NFT, titolo che dà tanto le vibes da mobile, titolo in cui tu controlli delle miniature e con queste miniature devi combattere altri nemici. Molto semplice, molto classico, molto diretto, con, però, la peculiarità degli NFT. Ovvero, il gioco ti permette di acquistare queste miniature a vari prezzi. C'è solo un problema, se proprio vogliamo dirla tutta, ovvero che i prezzi arrivano anche a costare diverse decine di migliaia di euro. Se non mi sbaglio, la miniatura più costosa arrivava a 59.000 euro, 64.000 dollari. Questi sono un po' i prezzi del mercato, ecco, i prezzi a cui Ubisoft cerca di avvicinarci. E di nuovo, perché Ubisoft punta così tanto sui NFT? E non soltanto Ubisoft, abbiamo, ad esempio, Square Enix. Anche Square Enix continua a produrre videogiochi dedicati agli NFT, continua ad annunciare lo sviluppo di altri titoli a tema NFT. Abbiamo Sony, che si sta avvicinando al concetto di cripto e blockchain, e che sta preparando dei brevetti che permettano lo scambio di NFT. Insomma, c'è tantissimo mercato dell'industria videoludica che sta tentando, chi più chi meno, di entrare in questo ambiente. Tanti altri sono scappati, c'è chi voleva entrare e poi ha detto no, ci fermiamo, facciamo un passo indietro. Altri ancora, invece, stanno entrando in maniera sempre più prepotente. Per chi non sapesse di cosa si sta parlando, e questo è importante specificarlo, gli NFT sono stati una moda che è durata meno di un mesetto. Durante lo scoppio delle criptovalute, quindi Bitcoin e compagnia, è uscito fuori il concetto di NFT. Che letteralmente l'NFT era l'idea di avere un'immagine unica. L'idea di avere un disegno, uno screenshot, una qualsiasi cosa, qualsiasi cosa immagine da poter vedere sul proprio desktop, ma che non poteva essere condivisa. Tu avevi quasi un codice, avevi quasi un link privato, una chiave di accesso che rendeva quel qualcosa soltanto tuo. E per qualche settimana è stata la moda del momento. E quando dico che è stata la moda del momento, intendo dire che siamo arrivati a vedere NFT che venivano venduti al prezzo di milioni di dollari. Milioni, non migliaia, milioni di dollari che venivano scambiati come figurine. Parliamo di un mercato dove le più grandi star del cinema, dello sport, tutti cercavano di mordere la grandissima torta degli NFT, che però si è esaurita abbastanza in fretta. Guarda caso ha cominciato a esaurire il suo charm nel momento in cui qualcuno ha detto sì, ok, loro vogliono vendercela un po' come se fosse un quadro. Quindi tu hai il quadro in bella vista e puoi fare delle copie, però nessuno può avere l'originale. Il problema è che sul web diciamo che questo concetto è un pochettino diverso, perché tanta gente dice bella NFT, aspetta che faccio uno screenshot. Ti ho rubato l'NFT e il tuo concetto di unicità è venuto meno. C'è voluta qualche settimana per rendersi conto di questo problema e appena la gente ha cominciato anche per perculare a riempire di screenshot tutta la roba che era NFT, l'interesse è scemato. E quando dico che l'interesse è scemato intendo dire che siamo passati da NFT che venivano venduti a milionate di dollari ad altri, a quegli stessi anzi NFT che nel perdere valore oggi vengono scambiati a poche decine di dollari. C'è chi ha perso la casa, c'è chi ha perso il lavoro, c'è chi ha perso la vita per colpa degli NFT. E poi ci sta il mercato videoludico, che ovviamente arriva in ritardo rispetto a quando questo grande ambiente degli NFT è esploso, vede il potenziale di successo e ci si lancia con tutte le scarpe. Ciò che è importante capire è che qui siamo in una situazione probabilmente ancora peggiore rispetto a quella che può essere il voler inseguire la moda di Concord. Cioè, Concord nasce ad esempio, faccio l'esempio di Concord perché è abbastanza recente ed è abbastanza esplicativo. Un team che vuole puntare a una moda per fare soldi e sviluppa Concord. Ma ci arriva fuori tempo massimo e quando il gioco esce non se lo caga nessuno, oltre ad altri problemi legati al gioco. Però, almeno dal punto di vista di Concord, si poteva pensare che, visto che altri hero shooter esistono e funzionano, si poteva pensare che Concord potesse trovare un suo pubblico di riferimenti. Insomma, c'era l'idea che un pubblico interessato agli hero shooter è presente, magari non tanto quanto in passato, e conseguentemente il team si è fatto forza su questo. Oggi con gli NFT è molto diverso perché la moda non c'è più. Nessuno parla più di NFT. Nessuno parla più di quel contesto e di quel mercato. I prezzi sono crollati e a nessuno gliene frega più niente. Quindi perché puntare così tanto su questo contesto? Perché continuare a sviluppare giochi, sviluppare prodotti in questo ambito? Beh, la risposta è in realtà molto semplice perché questi prodotti hanno dei costi imbarazzantemente bassi. vengono sviluppati letteralmente con due spicci, prevalentemente per il mercato mobile, e l'obiettivo è cercare di far cassa. Ubisoft lancia Champions Tactics Grimoria Chronicles e io vi invito ad andare a guardare anche soltanto il trailer di lancio che dura 45 secondi. Già solo quel trailer fa capire quanto ci hanno speso sul gioco. Perché? Perché nel trailer di lancio si sono dimenticati di togliere il puntatore del mouse. Ci sono momenti in cui si vedono le pedine che combattono e si vede il puntatore del mouse a ogni volta che cambia l'inquadratura da una parte diversa perché il tizio che ha fatto il video ha cliccato la mossa per fare l'attacco, ha tolto il mouse per non farlo vedere su schermo, non l'ha fatto abbastanza e quindi il mouse si vedeva comunque e nessuno in fase di montaggio se ne ha accorto o gliene è fregato niente e ha detto ma chi se ne frega ma falla andare avanti così. Perché sono prodotti pensati per due cose. Da una parte devono rompere i coglioni al pubblico hardcore il meno possibile. Bisogna stare attenti che il pubblico neanche se ne accorga. Ubisoft non ha detto niente del lancio. Ubisoft non ha mai parlato direttamente del gioco. Il trailer di lancio di questo titolo è arrivato su altri canali YouTube. Non sia mai che arrivi sul canale ufficiale di Ubisoft. Mentre dall'altra parte questi giochi sono indirizzati a un pubblico molto specifico ma non direttamente al pubblico mobile o al pubblico casual bensì a quello 0,1% di utenza che su questi prodotti ci spende i milioni letteralmente sui ricchi che poi è lo stesso modello con cui vanno avanti quei giochi mobile che spesso vediamo con i trailer del cazzo negli spot pubblicitari qui su YouTube è così che sopravvivono perché la gente non ci gioca il grande pubblico non gliene frega un cazzo e a queste compagnie non frega un cazzo del grande pubblico a loro frega di quello 0,1% di utenti che hanno i fantamiliardi e che non si fanno alcun problema a spendere i fantamiliardi su quelli che poi sono prodotti digitali cioè gli NFT del gioco Ubisoft sono letteralmente asset digitali immagini immagini questo è questo è e se da una parte posso capire che un'azienda voglia guadagnare il quanto più possibile per quanto io pensi che obiettivi di guadagno e creatività possano andare a braccetto si possa trovare una quadra per far combaciare questi due concetti dall'altro lato vedere che grandi aziende fanno queste merdate questa robaccia per cercare di spillare soldi a qualche ricastro che di soldi ne ha veramente tanti dispiace un pochettino Ubisoft ci aveva provato anche con il pubblico hardcore magari non ve lo ricordate ma Ubisoft aveva lanciato il suo Ubisoft Quartz che era questo concetto di piattaforma di acquisto NFT per i giochi principali della compagnia in particolare era partito con Ghost Recon Breakpoint non se ne è fregato nessuno nessuno ha speso soldi su quella roba l'idea era quella di avere delle skin uniche da poter utilizzare nei propri giochi preferiti e nel corso di mesi Ubisoft da quella piattaforma ha generato un totale di 400 dollari di guadagno hanno venduto 15 NFT 15 e il progetto è andato a gambia all'aria perché al pubblico hardcore non gliene frega nulla perché al pubblico di massa non gliene frega nulla perché al pubblico mobile non gliene frega nulla però c'è quel piccolissimo gruppetto di super ricchi che hanno i soldi che invece spendendo senza il minimo interesse perché possono permetterselo possono arrivarti a comprare anche delle skin che valgono 50.000 dollari 60.000 dollari senza batter ciglio e volendo fare anche l'avvocato del diavolo potrei dire ok hanno puntato su questo mercato hanno puntato su questi metodi secondo me abbastanza imbarazzanti e che possono rovinare in parte l'immagine della compagnia per guadagnare il quanto più possibile però nel mentre guarda che bei giochi guarda quanta varietà guarda i team che lavorano nel mercato hardcore quanto sono desiderosi di farsi valere così potrei anche accettare così potrei anche dire vabbè dai però alla fine dei conti io vengo toccato di striscio dagli nft mentre invece dal resto giustificano queste pratiche con grandi giochi e invece Ubisoft giustifica gli nft giustifica queste follie dandoci un'ottica futura di un Assassin's Creed ogni sei mesi ragazzi miei bella merda grazie a tutti